Ciao! Siamo il cast di Suburra Eterna. E che cosa facciamo qua oggi? Cosa facciamo? Giochiamo a... Giochiamo? Giochiamo a criminali tweet better. Bravo. Do it better. Ovvero, leggeremo delle frasi famose come se fossimo sul set di Suburra Eterna, quindi da criminali. Il triangolo no. Non l'avevo considerato. A Giochino. Stamano può essere piuma e può essere fero. E oggi? Oggi è stata piuma. Però è invertito perché era al contrario, mi sa. Licenza poetica. Licenza poetica. Licenza poetica. Quindi adesso chi se la sente? Vai, dai, tanto io non so che vuol dire questa. Ci beccavamo nel... Ma che fortino, ti giuro. Ci beccavamo nel bando. Tu che leggi questa mi fa molto riuscire. Vai, vai, vai. Dunque ci beccavamo nel bando, sopra il booster. Anna fattura e no. Non parlo di booster. No, non parlo di booster. Va bene, va bene. Gli ingredienti sono quelli classici. Guanciale stagionato, tuorli, pecorino e pepe macinato al momento. Mamma mia. Ho visto lei che bacia lui. Io? Che bacia lei. Che bacia me. È una roba. Qua c'è un dramma in corso pesante, ragazzi. Sì, sì, sì. Potrebbe rispondere. Il triangolo nono l'avevo considerato. Potrebbe rispondere. Io però tranquilla. Roman, fa la stupida stasera. Basta, ho finito. Ma che è sta cosa? È il cordo, è breve. Me la devo fare più... Più criminosa. Roman, fa la stupida stasera. Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me. Io non ho capito che sto a dire. Scusa, Anna Lisa, però è una cosa proprio che... Aspetta. Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me. Ragazzi, sono un criminale confuso. Se beccavamo nel bando sopra al booster Anna, fattura e no, io non parlo del booster. Mamma mia. Questa era proprio... Questa era proprio un dramma. Ma te sempre. Sì. Ma te sempre. Vabbè, diciamo che può bastare così. Sì, è meglio. Vi giuro che nella serie siamo dei criminali migliori. Va bene? Ci vediamo su Netflix, su Burra Eterna. Ciao! 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 Grazie a tutti.